C'è un po' molto bene, sicuramente in questo periodo gli allenamenti sono un po' pesanti, ma è giusto che siano così, perché sicuramente questa è la base che poi ci mantiene durante il campionato, che ci fa stare bene, che ci fa correre durante 90 minuti, quindi dobbiamo adattarci. Adesso siamo qua, che fa un po' più di fresco rispetto a Vinovo, ma gli allenamenti non cambiano. Dobbiamo pensare a quello che viene, dobbiamo indicare lo buono che abbiamo fatto, perché ormai adesso non serve più niente, dobbiamo avere nuovi oggettivi per cercare di fare una stagione come l'anno scorso. Grazie a tutti. Fa piacere conoscere su questo sport, perché logicamente tanto in Argentina come in Italia non si vede tantissimo, e conoscere le regole, come giocano i giocatori, sicuramente fa piacere, perché sono cose nuove che uno può imparare. È difficile, un po' difficile paleseare, perché è completamente diverso dal nostro, è più un pallone di rugby, però ce la cavamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.